guardalo! ah questo è un colo straccione, quello è il primissimo schiva schiva, schivami tanto guardalo! guardalo! mamma! mamma! non puoi essere K.O. comunque dai no K.O. no K.O. no K.O. no K.O. no K.O. Michele ha le prese con il wii schiva, schiva, muovili, muovili facili schivi, super pugno, quando lui arriva raro, infili un pochino, il mega pugno, Michele mi dobbiamo stare in energia ma guarda, come si può essere male no K.O. guardalo! vai muovili, vai muovili tira, tira con lì se vuoi stanto vai 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 questo tantissimo Michele non lo puoi chiudere proprio ad angolino vai 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 oh ma non lo puoi essere qui oh w h u u u u u oh u e u u u u u u a io ti amo no copriti non basta che volete capricchino bravo faremo che stanchissimo vai vai dalle amiche dalle che sono stancho ho tappetano bravissimo io la metto un po' perchè non la faccio un po' a meno che non c'è alcun lavoro di prima un po' bravo, io forse non mi ricordavo la traduzione così fa, lo primi insieme oh 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 vince per no-ca-os Marduk guarda, guarda, è scena da niente col pianghello, l'ha preso qua e l'ha messo a terra l'ha messo a terra l'ho preso qua e lui non ha guarda, guarda BAM e poi a polvo continuiamo la spiegazione tecnica lui prendendolo qua era già finito da prestare ma prendendolo qua lui è caduto e poi non posso cadere perchè ...